Fin dove arriva il tuo sguardo? Dove si ferma il tuo sguardo? Buongiorno, buongiorno, buon caffè. È tutta una questione di sguardi alla fine. C'è uno sguardo che giudica, c'è uno sguardo che misura, che valuta, e c'è uno sguardo che comprende. D'accordo, viene molto facile pensare a una dimensione affettiva, spirituale, all'amore, all'attenzione per gli altri, alla carità, cose che possono interessarci fino a un certo punto. Ma siamo sicuri che ci si ferma soltanto qui? Che non può essere, per esempio, applicato a situazioni anche professionali questa doppia profondità dello sguardo? Perché ci può sempre fermare sullo sporco, sull'inutilità, sulla spazzatura, che rimane come un fischio in sottofondo. Anche quando si tratta di lavoro, quando si tratta di vendita, quando si tratta di lavoro di squadra, ci si ferma alla ricerca del colpevole, ci si ferma a quello che ci viene detto in prima battuta, ci si ferma a dare un giudizio, a valutare, a misurare. Posso vendergli questo? Posso fare questo? È stato lui? È stato quell'altro? Ci si ferma a dare, appunto, una condanna il più delle volte. E lo sguardo che comprende, che non vuol dire che apprezza, che non vuol dire che approva, che non vuol dire che giustifica, vuol dire che comprende, sa andare oltre, sa cercare le cause, sa cercare di leggere tra le righe, sa cercare di suscitare le emozioni, leggere le emozioni, sa comunque salvare la persona anche nelle condizioni peggiori. E questo vale anche nel lavoro. Che cosa ne dite? Buongiorno e buon caffè!